Paldi giovani, buon pomeriggio, Murigno dei, prime impressioni, fa innanzitutto strano, ecco fatemolo di, fa strano per chi lo ha vissuto, no? Nelle vesti di allenatore interista fa strano ritrovarselo così calato, fin da subito, così calato, calato nelle vesti del romanista, proprio del romanista, perché per Murigno il messaggio è chiaro, il messaggio è chiaro fin da subito, c'è il suo club, c'è la Roma, tutti gli altri sono nemici, è stato sempre questo il diktat di Murigno, magari c'è chi si aspettava, no? Una retromarcia, no? Qualche coccola ai suoi ex tifosi, no, 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 anzi ci sono state stoccate, è stato molto puncente, fricciatine, nei confronti dell'Inter e dell'ex allenatore Conte e trattiamo un po' tutto, però prima di entrare, di calarmi nella parte, cerco un po' di essere, di dare un giudizio da esterno, non è facile, devo essere sincero, non è facile, non è facile, però quello che posso sicuramente affermare è che Murigno, dal punto di vista mediatico non si è sicuramente ridimensionato negli anni, anzi rimane il suo punto di forza, riesce a combattare un ambiente e oggi forse mette a segno anche un punto, perché veramente preparato, preparato, tutto possiamo dire, ma questo si è preparato, si è preparato, ha studiato ogni possibile variante delle domande, no, un po' che gli potevano proporre, forse inizialmente anche troppo teatrale, quando cita Marco Aurelio, forse anche un po' teatrale, però ci sta, fa parte del gioco, fa parte del suo modo, no, di esprimersi e di comunicare e per il resto ragazzi sicuramente ribadisco, sempre sul pezzo, sempre tagliente, sempre con il solito modo di fare, no, c'è il mio club e tutti gli altri sono nemici, è molto molto chiaro, molto molto chiaro e ripeto, da questo punto di vista sicuramente ritroviamo il Murigno di sempre, perché poi questo è il discorso, in tanti dicono ma questo Murigno ha perso dei colpi negli anni, ecco dal punto di vista mediatico oggi abbiamo capito che sicuramente non li ha persi, attenzione, poi andiamo a vedere cosa saprà fare sul campo, come lavorerà la Roma, se riuscirà a trasmettere mentalità alla sua squadra, questo lo appureremo, questo lo appureremo e vedremo un pochettino, perché ad oggi non si può, non si può sicuramente aggiungere altro, dal punto di vista mediatico, è il solito Murigno, ecco su questo credo che siamo un po' tutti d'accordo e mi è piaciuto tanto quando appunto ha detto che questa non è la Roma di Murigno, questa è la Roma dei romanisti, queste sono cose che io cerco di immedesimarmi un po' nella piazza di Roma, sono cose che piacciono, secondo me sono cose che attirano, uniscono, ti danno forza e creano il giusto ambiente, io continuo a pensare che sia l'allenatore giusto per questa piazza, proprio per il suo modo di comunicare, ripeto parlo sempre di comunicazione, poi dal punto di vista tattico vedremo, vedremo, indubbiamente vedremo, ma serviva un grande comunicatore, lui indubbiamente lo è, lo conferma ancora oggi, detto ciò adesso mi porto dall'altra parte della barricata, cioè guardo in casa mia ed essendo interista, andiamo a vedere un po', andiamo un po' la stoccata che ha lanciato all'Inter, quando gli parlano di titoli, no, perché poi alla fine quando arriva Murigno le aspettative sono alte, c'è indubbiamente che inizia a parlare di titoli e quant'altro, lui come risponde? Non vogliono successo isolato, vogliono arrivare lì e rimanere lì, e questo è più difficile, perché di un modo isolato è più facile, è ancora più facile se tu vinci, dopo non ha soldi per pagare stipendi, però noi vogliamo essere sempre sostenibili e siamo completamente insieme in questo pensiero, lavorare che arriverà. Il discorso degli stipendi, molti subito hanno tirato la storia, subito l'hanno associato giustamente all'Inter, no, al discorso degli stipendi, ecco, cosa vogliamo dire? È facile, è facile buttarla sugli stipendi, sappiamo bene ragazzi miei che dall'Inter il calciomercato che si sta per avviare si è avviato e non è scappato nessuno dall'Inter, cioè, ditemi un giocatore che ha visto, ha visto, no, dei buchi economici ed è voluto andare via, no, l'unico che è scappato subito è stato un certo Antonio Conte, tra l'altro si è portato a casa anche 7 milioni e mezzo, se non ti pagano, se non ti pagano, te ne vai, te ne scappi, l'altro che è andato via è Kimi, ma non perché è andato, perché è voluto andare via lui, no, l'hanno praticamente messo alla porta, hanno detto devi andare via, perché? Proprio per il discorso sostenibilità e sono d'accordo con lui, perché all'Inter adesso si deve fare questo discorso, l'Inter per assecondare le scelte di un allenatore che voleva a tutti i costi vincere, l'Inter ha fatto delle mosse anche avventate, mosse che adesso costano e mosse che ci portano per esempio alla cessione di Hakimi, ma buttarla sull'Inter, o meglio lui non ha detto questo Mourinho, poi è normale che cavalcheranno l'onda e vorranno farlo passare per quello che ha detto che l'Inter non paga gli stipendi, no, ma in una situazione del genere, ragazzi miei, pandemia, covid, stadi chiusi, non possiamo star lì a bacchettare l'Inter per degli arretrati sugli stipendi, stipendi che poi sono stati saldati, altrimenti ditemi voi, chi rimane, se non ti pagano, tu rimani a lavorare per chi non ti paghi, non rimani a lavorare per chi non ti paghi, non ci rimani, non ci rimani, te ne vai, te ne scappi il prima possibile, è così, è così, non è, non è, tranquillamente, quindi giusto per rispondere ad una provocazione che ripeto poi finirà sicuramente per essere associata all'Inter, però come sappiamo l'Inter adesso si è mossa appunto per diventare sostenibile, per diventare sostenibile, e niente, e niente, ma rimaniamo su Mourinho, rimaniamo sulla stoccata finale nei confronti di Antonio Conte, mi sono segnato pure questo. Parlando in Mediaset, buongiorno, bentornato, sulla questione del rumore dei nemici è stato chiarissimo, volevo parlare magari di due rivali, il primo è se quando incontrerà la sua ex Inter, le dispiacerà non incrociare Antonio Conte che spesso è stato paragonato a lei, e l'altro è che siccome tre anni fa è arrivato un certo portoghese, adesso è arrivato allo special one, se quell'altro portoghese deve un po' cominciare a preoccuparsi del suo ritorno, che è Ronaldo ovviamente, l'altro portoghese. Ah Ronaldo? No, guarda, ci sono dei allenatori nelle storie dei club che tu non devi paragonare mai, ok? In questo club per esempio si parla di Lidl o si parla di Fabio Capello, non paragonare con nessuno mai, quando tu parla nell'Inter, non paragonare nessuno con me o con Elena Reva, perché non puoi paragonare. Non vuole nessun paragone tra lui e Conte come allenatore dell'Inter, è stato abbastanza deciso e chiaro, se vedete anche l'espressione molto agguerrita che va in qualche modo a dare ancora più forza e vigore quello che ha pronunciato e che dire, sono d'accordo, non si può mischiare l'acqua col vino, indubbiamente, Morigno all'Inter ha fatto indubbiamente la storia, la storia, la scritta in maniera indelebile. Conte per carità ci ha portato uno scudetto ed è stato indubbiamente bravo anche lui, ma non regge, non puoi paragonare e non vuole essere paragonato a Conte, come è giusto che sia. Ma non ne facciamo un discorso di fede, non è che non vuole essere perché uno è interista all'altro no. Io sta roba qua ormai la cancellerei del tutto la depenno perché io li vedo solo come grandi professionisti un po' tutti, come l'ho detto per Conte, quando è arrivato e quando è andato via, professionista era, professionista rimane, nulla di più, nulla di meno, la stessa cosa mi viene da dire per Giuseppe Morigno, non è di certo interista Morigno perché c'è chi continua a sostenere questo, lui stesso si proclama tale, non credo sia così, assolutamente no. Lavorerà da rivale, per cui rimane tale. Va bene Baldi Giovani, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, adesso mi vado a gustare anche la conferenza di Spalletti perché oggi è giornata di conferenza e via. Un grande abbraccio ragazzi, un grandissimo abbraccio da Neschi. Ciao. 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 Grazie a tutti.